Le preoccupazioni non riguardano solo il campo. Per la sfida di ritorno di Europa League tra Roma e Feyenoord c'è massima allerta. Nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Olanda, c'è il timore che gruppi provenienti da Rotterdam possano creare disordini nel centro della capitale, come già successo nel 2015. Decine di tifosi olandesi sono già a Napoli e potrebbero spostarsi a Roma dopo la partita al Maradona tra i partenopei e il Milan. Nelle ultime ore, sorvegliati speciali sono aeroporti, stazioni e caselli autostradali. Sarà un centro storico blindato, con transenne nelle principali piazze. Oltre mille uomini delle forze dell'ordine impegnati nei controlli. Contatto continuo tra il capo della polizia italiana e le autorità olandesi in una città dove manca il prefetto da 42 giorni. Abbiamo chiesto che il dispositivo di sicurezza sia particolarmente attento, c'è piena fiducia nelle forze dell'ordine, ha detto il sindaco Gualtieri.